Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questo errore dell'esperienza limitata dai controlli parentali di Roblox. Quindi in questo caso se vi esce questo errore qua basta andare direttamente sul proprio account di Roblox. Quindi in questo caso vai su Chrome e vai direttamente sulle impostazioni, impostazioni, vai su controllo parentale e qui ci sono le esperienze consentite. Qui puoi mettere tutte le DA, quindi il gioco è adatto a tutti. Bisogna mettere un PIN, quindi in questo caso se devi creare un PIN ti chiederà di mettere la tua email per verificare il tuo account. Una volta fatto ti manderanno una verifica sulla propria email, quindi in questo caso vai sull'email, accetti, ritorni qua sopra e cominci a inserire un PIN. Lo crei e metti quello che vuoi e lo confermi anche. Quindi in questo caso io metto il mio PIN, lo sblocco e lo metto su tutte le età. Ok? Quindi se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di riguardarlo se non hai capito la guida, se hai problemi, commenta. Come ho detto, se è la prima volta che fai queste cose qua ti chiederà di mettere la tua email per verificare l'account. E poi cominci a creare il tuo PIN per risolvere questo problema. Quindi se questo video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti, lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao! Ciao!